Ok, adesso è arrivato il momento del videoclip, bastiamo un po' la luce, vediamo chi è la prossima ospite. India Flores viene da Brindisi, ha partecipato a vari stage insieme a volti importanti del panorama musicale italiano. Il 21 giugno del 2017 è uscito il suo primo inedito dal titolo Lasciarti andare sulle piattaforme online. Questa sera è qui con noi a Music in the Night. Silvia Flores! Probabilmente non pensi mai a come sarebbe stato Fare le cose con il senno di poi forse ci avrebbe aiutato. Invece è tutta un'altra cosa adesso, il cielo si è complicato e mi ritorna in mente quando ho smesso di chiedermi dove ho sbagliato. Dovrei lasciarti andare, dovrei dimenticare, ma non posso, non posso accettare che la pioggia cedetti il finale. Dovrei lasciarti andare, dovrei dimenticare, ma non posso, non posso accettare che la pioggia cedetti il finale. Probabilmente ho esagerato e certe cose non le so gestire. Intrappolato in questo passato, cerco la bocca con scritto fine. E invece è tutta un'altra cosa adesso, e certe cose non le so capire. Dovrei lasciarti andare, dovrei lasciarti andare, dovrei dimenticare, ma non posso, non posso accettare che la pioggia cedetti il finale. Dovrei lasciarti andare, dovrei lasciarti andare, dovrei dimenticare, ma non posso, non posso accettare che la pioggia cedetti il finale. Dovrei lasciarti andare, dovrei dimenticare, ma non posso, non posso accettare che la pioggia cedetti il finale. Dovrei lasciarti andare, dovrei lasciarti andare, dovrei dimenticare, ma non posso, non posso accettare che la pioggia cedetti il finale. Brava! Bellissima! Silvia Flores! Mangiamo qualcosa dietro le quinte. No, non mangio la quinta. Scusatemi, comunque erano buoni i dolci del Bargarden e del Bargrafio. Non ho assaggiato ancora nulla, ci faccio tra poco. Buonissima, anche la frutta. Allora, Silvia, come va? Da Brindisi, qui nella terra del Salento. Bene, va bene, io sono sempre qui. Sono fidanzata con un leccese, quindi il mio fidanzato che è anche l'arrangiatore del brano, Luca Manno. Luca Manno, un nome già conosciuto. Sì. Rapporto tra l'acqua e il tempo, lasciarsi andare. Questa bella melodia da dove nasce, l'ispirazione? Il brano è scritto da Maurizio Musumeci, autore anche di Mengoni e Francesco Guasti, all'ultimo festival di Sanremo. Quindi Maurizio mi ha scritto questo brano, diciamo l'ha azzeccato perché... Io per curiosità questo pomeriggio sulla piattaforma online sono andato a visitare su YouTube il tuo video. Siamo arrivati quasi a 9.500. Sì, due mesi. In due mesi. Quindi è un video, è una canzone bellissima, molto melodica, è vero? Vi è piaciuta? È emozionante, è una storia d'amore. Quindi mi raccomando scaricateve. Ti lo invito, se vogliono guardare il videoclip sul YouTube, basta scrivere a Silvia Flores e lasciarti andare. Quindi io potrei iscrivermi anche sul tuo profilo? Sul canale YouTube. Sul canale YouTube. Ok, Silvia Flores, un attimo, riconoscimento. Dalla nostra Angelica. Per te la targa ricordo di Music in the Night è un regalino da parte della Profumeria Azzurra, sponsor dall'evento. Ok, a Silvia Flores, possiamo leggere un attimo? Per il suo primo inedito sulle piattaforme online, lasciarti andare. La grinta, l'energia e il cuore sono aggettivi che le appartengono. La libertà esiste solo nel regno dei sogni e la bellezza finisce solo nel canto. Fiorisce solo nel canto. Grazie. Bravissima, Silvia. Canti auguri, poco a lupo. Grazie a tutti. Al prossimo anno un altro inedito, un'occhiai? E poi tante altre canzoni, perché la musica è importante. Io, Salvatore, pensavo che questi abiti, questi tacchi, sono una meraviglia per noi donne, credimi. Ma a volte è come in questo momento. Non sai quanto vorrei un paio di sneakers, non te lo puoi immaginare. Ciao. Ciao.